ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi rosario moreno coronavirus leggero calo dei contagi sono 218 ma con soli 29 mila tamponi terapie intensive vuote in nove regioni ancora 23 vittime il 65,5 per cento dei casi è stato registrato in lombardia mentre sono 7 le regioni ad aumento zero nelle ultime 24 ore sono puglia friuli venezia giulia sicilia sardegna umbria valle d'aosta e basilicata decreti sicurezza il movimento 5 stello dice revisione serve riflessione sul rinvio a settembre intervento circoscritto e senza cancellare il passato pd italia viva e leu hanno consegnato le loro osservazioni sul testo lamorgese movimento 5 stello l'ha fatto a voce e farà poi pervenire un testo un testo scritto la prossima settimana si ipotizza martedì ci sarà un nuovo incontro su un testo che raccolga le osservazioni dei partiti di maggioranza e riferisce una fonte presente all'incontro potremo avere un testo condiviso pronto entro 15 giorni coronavirus in arrivo la proroga dei termini per i versamenti di giugno per i contribuenti isa e forfettari la notizia è stata comunicata direttamente dal ministero del tesoro con una nota la scadenza per il versamento in scadenza appunto il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio senza corresponsione di interessi coronavirus senac valuta sanzione ai vettori aerei non si possono rimborsare con voce voli cancellati per motivi diversi da covid lo ha annunciato lo stesso ente in una nota dopo l'avvio di ramato il 18 giugno scorso a partire dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale e nell'area europea schengen regno unito irlanda del nord le cancellazioni dopo tale data sembrerebbero operate da scelte commerciali e imprenditoriali delle compagnie hanno scritto coronavirus il desametasone potenziale salvavita per i pazienti covid in condizioni in condizioni critiche appunto la scoperta si deve agli scienziati di oxford che con lo studio recovery appunto hanno raccolto i dati per testare una gamma di potenziali trattamenti contro covid 19 gli hanno verificato che lo steroide sembra efficace per i malati gravi notizie da napoli e dalla campania anziana aggredita da due alani nel napoletano e grave 200 punti di sutura staccati naso e orecchio una stradina stretta buia e isolate un'anziana donna improvvisamente aggredita da due alani neri feroci che la sfregiano viso gambe e braccia rilasciandola in una pozza di sangue non è la scena di un film horror ma è quanto è successo domenica sera alle 22 e 30 in via la maria a torre del greco a maria solvino 75 anni che era uscita di casa per buttare la spazzatura ma si è ritrovata a dover lottare contro due molossi alti quasi un metro fortunatamente la donna che ora è ricoverata all'ospedale cardarelli è fuori pericolo ma deve essere sottoposta a vari interventi sono stati già applicati oltre 200 punti di sutura per la gravità delle ferite ora pensiamo a mia madre ma quei cani vanno rinchiusi questa è quanto detto che è la rabbia appunto della figlia virginia lega e forza italia dicono che a caldoro per le regionali in campagna ma è scontro sugli impresentabili l'accordo sul candidato governatore il forzista forzista stefano caldoro è stato raggiunto ma il clima tra gli alleati di centrodestra in campagna resta teso come dimostra un botta e risposta tra lega e forza italia sulla questione degli impresentabili apre le ostilità il segretario campano del carroccio nicolo molteni dice liste di qualità stoppa l'egemonia di cesaro in campagna obiettivo è dare un taglio al malgoverno della sinistra anche in campagna e costruire una classe dirigente di qualità per confermare le buone ricette della lega anche in questa splendida regione che merita grandi cose anziché i mastella i de luca o qualche impresentabile che danneggia il centrodestra notizie da treviso e dal veneto infarto sul luogo di lavoro operaio ricoverato in ospedale il malore nel pomeriggio di lunedì 22 giugno a Nervesa della battaglia ricoverato in ospedale conigliano un operaio che si occupa appunto della manutenzione degli estintori abbandona abbandono di rifiuti inerti in via lauretana individuati responsabili si tratta di una ditta della sinistra piave che scaricava i propri rifiuti nel comune di monte belluna le indagini avviate nel mese di gennaio hanno portato alla denuncia degli eco vandali l'ex seda degli uffici telecom diventa una palazzina per appartamenti di russo l'ex tipografia zoppelli in via panciera a treviso si trasforma in un complesso residenziale luigi bonanno sarà il manager dell'operazione di riqualificazione da 15,7 milioni di euro perseguitata dall'ex fidanzato costretto a cambiare casa un 46enne padovano è stato condannato a sei mesi nel processo di secondo grado e tre mesi in continuazione nel processo di primo grado a venezia l'uomo non voleva rassegnarsi alla fine della sua relazione con l'ex pranzo o cena gratis la piani offre la catena ten succede in piazza delle istituzioni dove il manager stefano ghisoli ha deciso che per una settimana chiunque potrà pranzare o cenare alzarsi da tavolo senza la grana di dover pagare il conto notizie dal friuli venezia giulia frana a bivio da orisina del rai a un treno traffico sospeso dalle 18 e 20 diverse le corse ferroviarie interrotte fra c'è stata una franata a bivio di orisino che dove ha deragliato un treno è una frana all'altezza di bivio a orisina insomma intorno al 18 e 20 ha comportato il deragliamento appunto di questo treno a uscire dai binari la motrice alcuni massi si sono staccati dal versante dove erano stati eseguiti dei lavori di miglioria non molto recenti a bordo c'erano se 22 persone nessuno per fortuna è rimasto ferito arrestato in germania l'autore di numerosi furti in friuli nel 2008 aveva colpito in barre abitazioni tra udine e travagnacqua e resiutta è stato arrestato nei giorni scorsi in germania grazie a un mandato europeo un 37enne rumeno condannato a un anno e nove mesi di reclusione dal tribunale d'appello di trieste per una serie di furti commessi nel 2008 in friuli modal sabida inaugura l'estate a romanz primo appuntamento sabato 27 giugno nell'area sportiva in via attreti azzurri d'italia ricomincia l'animazione culturale a romanz con la rassegna di concerti gratuiti musica d'estate promossi dall'associazione leggermente finanziati dalla regione autonoma friuli venezia giulia in collaborazione col comune di romanz di sonso l'associazione liberatoria d'arte fulvio zoc zon che scusate e il centro giovanni mitiù torna robotics il festival di arte e robotica e tecnologie in programma workshop made mostre internazionali e webinar dal 26 giugno online ea trieste mugia e gradisca di sonso ha mutato date in seguito allo spostamento di science of city festival in cui è inserito le modalità operative privilegiando lo streaming e l'online al posto di azioni live ma a robotics festival di arte robotica e altre tecnologie pronte a partire con la sua seconda edizione che proporrà una serie di workshop due esposizioni internazionali alcuni webinar a partire dal 26 giugno e fino ad autunno inoltrato all'ires il corso per il patentino di conduttori impianti termici per partecipare è necessario essere diplomati maggiorenni e avere la residenza o la sede lavorativa in friuli venezia giulia ultimi posti all'ires di udile per il corso di 100 ore per ottenere il patentino di abilitazione per la conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kilowatt sia per impianti termici alimentati con combustibili solidi o liquidi che per quelli con combustibili gassosi comunque tutte le informazioni le trovate sul sito www.iresfvg.org oppure scrivendo a commerciale chiocciolairesfvg.org bene cari amici con questo è tutto termina qui questa edizione della rassegna stampa e studio con voi Rosario Moreno buon proseguimento con la programmazione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!